Il progetto è di quelli che possono cambiare il volto e non solo di una città. 112 chilometri di piste ciclabili per una spesa di 19 milioni di euro ed una ragnatela di ciclovie che mette in comunicazione i quartieri, i quartieri con il centro e il centro con il mare, le tre zone fulcro della città. Certo un progetto di queste dimensioni ha bisogno di tempo e risorse, oltre che di pianificazione e concertazione con gli altri comparti dell'amministrazione coinvolti nel piano strategico di Fano. Un piano sulla mobilità urbana ed in particolare con le piste ciclabili a Fano mancava e questa amministrazione vuole fortemente. Un segnale ben preciso a riguardo è giunto nel recente piano di asfaltature dove abbiamo visto che oltre a crearne di nuove, quelle esistenti sono state potenziate e meglio evidenziate. È una realizzazione così dettagliata, non si può realizzare in poco tempo, ma faremo una programmazione negli anni, stiamo già lavorando su risorse aggiuntive, abbiamo partecipato a dei bandi, alcuni già finanziati per alcuni tratti di piste ciclabili, parteciperemo ai nuovi bandi regionali e poi come dicevo interveremo anche direttamente annualmente su alcuni tratti. Una rete ciclabile così estesa e strutturata ha ricadute positive sicuramente sul piano socio-sanitario con un abbassamento drastico delle emissioni e delle polveri sottili, migliorando la salubrità dell'aria che respiriamo. Ricadute positive anche sul piano turistico perché in questo modo si migliora l'appettibilità di cicloamatori e cicloturisti per la città che rappresentano la nuova frontiera del turismo green dei nostri giorni. Si parte per ora con il completamento dell'affano fenile, con il pezzetto mancante sotto il cavalcavia e la pianificazione del prossimo obiettivo, l'affano Marotta Senigallia, che rappresenta il prossimo step. Fra l'altro avete visto negli interventi che abbiamo fatto anche qui.